Aria Grazia Pucinotta No Contessa dei ricchi Mamma Chissà com'è morto Chissà se internet ci è data di questo Internet non ha risposto Forse Arisogitone ce l'ha Arisogitone Maledettissima Sì Surgitone No no Cosa è successo? Comunque Internet non mi dà le risposte che io cerco Ma tu lo sai chi ha ammazzato la mamma? Sì E' stata la Sì Mia moglie Sì Ma io non posso divorziare da mia moglie Lei capisce Arisogitone Potrebbe installarmi dei sims E mettermi simbols Ancora viva comunque Maledettissima Mamma Maledettissima 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 Un attimo, sto troppo serio, non me ne tiene. Qualcuno chiami la pubblicità occulta! Ecco, meno male, ho sentito qualche risacco, perché sennò mi sentivo troppo serio, sa? Sì, secondo un momento serio... No, non mi preoccupate, non mi preoccupate. Comunque, le volevo dire, mia moglie mi vuole uccidere. Però io non voglio morire, e lei anche per lei mi beveva, anche se mia moglie vuole ucciderla. Ah, certo, daranno tempo. Mi dispiace, è un brutto colpo. Ormai si con gli convenisci. Mi dispiace, quando se mia moglie vuole ucciderla, vuole ucciderla. Quando la giornata si mette qualcosa in testa, non la cambia. Lo sa, io convivo anche con una telecamera, eeeh! Sì, purtroppo... Ormai viviamo in questo mondo, e comunque, stavo dicendo, mia moglie si chiama Novali Plante, adesso è Novali de Rikis, ed è una fissata con Singles 2, non la fisce? Che schifo! Eh, lo so. Mi ha detto che se io mi sposo con lei, cioè ci siamo già sposati, perché per me è una marina in moglie, però se io la lascio, tipo, non le lascio neanche uno spicciolo, lei mi disinstalla The Sims, e mi installa Singles, quindi io morirei l'infarto, sicuramente. Ma io vorrei che lei venisse a casa mia, si fingesse mio amico, ricco, stralicco, ancora più ricco di me, e tu mi dasse di capire perché lui vuole uccidere. Va benissimo, per lei quando va bene, signora? Anche subito. Va benissimo, arrivo subito. Grazie mille, arrivederci. Arrivederla. Aristo G! Aristo G, do eh? Ormai uno che si possa fare la doccia in santa pace. Buongiorno. Per lei chiede. Ma cosa c'è quello? Ma scusi, non mi sono cambiato il caffè. Oh, va bello. Questo proprio è il cameriere. Buongiorno, Detective Storm. Oh, salvo, io sono nel mondo delitosso. Grazie. Si ricorda di me? Certo. Prego, entri. Grazie. Mi sono scusata per l'abbigliamento e per il cappello di prima, ma mi stavo facendo una doccia. E il mio cameriere, chissà dove è finito, forse sa, c'è una pubblicità occulta, lo stessi, si, si, l'ho sentito per il Cileggiorno, si, si. Questo è un pubblicità occulta e questo è la videocamera, lei la vede la videocamera? No. Solo il doppio, controllare la videocamera. Va bene, andiamo a... Adesso, adesso le spiega. Si può passare il mio livello? Il mio cappello arriva alla sua altezza. Va bene. Le euro dove è alta? Ah, va benissimo. Alta, che è mia moglie. Va bene. Allora le spiego. Mia moglie mi vuole uccidere. Sì, sì, già lo sapeva, hai detto che io ho il telefono. Allora, io moglie ancora visitati lo stesso, non faccio vedere? Se sta lì, ti chiede a prendersi una vodka, un ginnetto. No, 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 è la donna, compie. No, insomma. Però è una pazza psicopata, eh? Sì, sì, vede, c'è la faccia. Interessante, comunque, adesso le vado a fare un po' la cosa, è tempo di scoprire perché non c'è la rinondazione. Allora, io vado a dire la pancia. Va bene. Io vado a dire la notte. Compia. Arrivederci. Arrivederci. Ho già detto? Grazie! Complimenti che sceglie. Io sono il ricco magnato della figlia. Ah! Lei? Sono la moglie di quel cretino, diremmo. Sì, sì, è un cretino. Non so quale volta l'avete sposato. Andiamo a chiedermi. Così lei è uno... Ho sentito che lei è una delle persone più ricche. Sì, è un testamento. iscriviti al nostro canale. Grazie a tutti.